Si spezza l'incantesimo in casa Manfredonia. Dopo tre successi consecutivi, gli uomini allenati da Massimiliano Badacca si inceppano al cospetto di una sorprendente scafatese, penultima della classe, che mercoledì tornerà in campo a Grottaglie per recuperare la gara rinviata l'8 febbraio. E dire che la partenza sprint dei Sipontini lasciava presagire ben altro risultato. La rete messa a segno da De Vita al quarto minuto di gioco illude i tifosi locali e il successivo pericolo creato da Bozzi, che non arriva per un soffio all'appuntamento con la deviazione aerea sotto misura, pare confermare il trend favorevole ai Bianco Celesti nel primo tempo. Primo tempo che però fa anche registrare un'ottima chance per gli ospiti al 24esimo nell'occasione De Gennaro e bravo a vanificare il tentativo di Mattioli. Tutta altra musica nella ripresa, inaugurata dal pareggio dell'undici campano. Farricello ruba palla a un distratto Vergari, si invola verso la porta e fa secco De Gennaro. Questo tiro di basta rimpallato dalla difesa rappresenta il canto del cigno per il Manfredonia, unitamente all'incornata di Rizzi imbeccato da Romito. Al 24esimo infatti, De Gennaro deve capitolare ancora sull'inzuccata di Marcucci, favorito da una sponda di Manzo. L'1-2 giallo-blu rappresenta un'autentica mazzata per i padroni di casa, incapaci di ritrovare il bandolo della matassa e costretti a chiudere in dieci per l'espulsione di basta al 36esimo. E così il Manfredonia rimedia uno stop tra le muramiche che gli mancava dal 26 ottobre scorso, giorno dell'1 a 4 col Brindisi. Davvero un brutto scherzo di carnevale per i sostenitori garganici.